buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo video più tecnico per la creazione dei mandala oggi vedremo le matite colorate perché me lo avete chiesto in tanti quindi ecco il video proprio sulla spiegazione della qualità magari anche del prezzo di tutte le matite colorate che io utilizzo per creare in mandala generalmente nel mondo artistico le possiamo dividere in due categorie la prima categoria il tipo scolastico che è un po quello che si può trovare dappertutto ovviamente come matite e soprattutto un prezzo contenuto dal basso al medio basso poi abbiamo un'altra categoria di matite di più artistico quindi il tipo artistico che diventa più professionale ovviamente è il costo delle matite va da medio a medio alto alto prima però facciamo una parentesi perché tantissime persone magari utilizzano i termini anche inappropriati per indicare le matite colorate e molto spesso qualcuno può chiamarla il pastello o matite a pastello quindi è importante sapere che una matita una matita che trovate di tipo scolastico o professionale si chiama proprio matite colorate perché le matite colorate racchiudono al loro interno proprio nel nel loro corpo di legno proprio di pigmenti di colori e questi pigmenti sono tenuti insieme da olio cera resina o altro ancora la qualità del pigmento la qualità proprio della lega ci sono delle matite a pastello però al loro interno non sono pigmenti di questo tipo sono proprio pastelli quindi la mina della matita pastello quindi a cera o a olio al suo interno sarà uguale di questi pastelli morbidi proprio o un po più duri rispetto a quelli quadrati ed è proprio fatto con questo materiale quindi non ha a che fare con quello che troviamo classicamente come matite quindi importante utilizzare il termine giusto matite colorate inoltre la differenza tra la matita colorata e la matita ad acquarello è proprio che le matita ad acquarello sono fatte come le matite normale solo che la loro lega di pigmenti sono fatte con cere idrosolubili quindi si distendono proprio al contatto con l'acqua inizio dunque a presentarvi le matite colorate di tipo scolastico i primi prezzi e le prime qualità di matite partono con per me la giotto ed è una matita che utilizzo tantissimo e ho qui due qualità che il stil novo e la supermina come vedete sono matite che veramente utilizzo tantissimo la differenza tra il stil nuovo che è questa della giotto e la supermina una nella qualità della punta e della lega del colore e due è il diametro proprio del della matita colorata abbiamo un diametro sul stil nuovo di 3,3 millimetri invece sulla supermina un po più grande 3,8 questo fa sì che in realtà la mina della supermina è molto più resistente non si spezza anche se dovesse cadere personalmente utilizzo tutti due anche perché il stil nuovo ha comunque dei colori un po diversi rispetto al supermina e utilizzo tantissimo la supermina anche perché se mi finisce una matita colorata facilmente la ritrovo sciolta anche nelle cartoleria o i negozi di belle arte si possono comprare proprio sciolte quindi la rimpiazzo facilmente e tengo la scatola proprio da molto tempo per esempio sicuramente questo ce la avrò da sette otto anni quindi la praticità di questo è la possibilità di rimpiazzare le matite che sono finite abbiamo un prezzo iniziale di stil nuovo a 50 matite colorate a 19 euro 60 è molto valido comunque si può iniziare tranquillamente a disegnare con questo tipo di matite invece il supermina 36 colore che questa scatola di latta che in realtà è molto pratica perché resistente questo viene 24 euro 53 quindi 25 euro per esempio e abbiamo proprio già una base di qualità con cui iniziare passiamo ora a un livello superiore di qualità e sono già queste delle matite acquarellabile quindi la differenza è che sono proprio idrosolubile e le potremo utilizzare poi dopo con un po d'acqua però le possiamo anche tranquillamente utilizzare proprio come una matita normale a secco senza dovere dopo ripassare con l'acqua la differenza che sono molto più morbide e quindi si stendono più facilmente ma si usurano anche molto più facilmente le zena color sono molto morbide e si spezzano facilmente hanno un prezzo contenuto però perché di 29 euro 97 per la scatola di 72 matite colorate acquarellabile poi abbiamo le castello di castellar che anche questo sono acquarellabile in questo caso abbiamo sempre 72 matite sono sempre anche loro morbide però un po meno delle zena color e quindi sono molto facile comunque da lavorare però comunque con un minimo di resistenza anche se si inizia a fare veramente molto coloriage quindi molto colorare si usano facilmente e dopo è difficile ovviamente rimpiazzare solo un colore però diciamo che questa è una qualità medio bassa molto apprezzabile con dei pigmenti di colori molto molto belli qua abbiamo un prezzo per 72 matite colorate di 35 euro 99 è veramente un bel prodotto ora vi presento i miei carandash i miei carandash che sono anche acquarellabili non poteva essere diversamente che questo fosse proprio la mia scatola preferita perché come vedete è un marchio sfizzero questo marchio di carandash è stato creato nel 1915 infatti questo è la scatola che hanno fatto per 80 anni di anniversario e ce l'ho dal 1995 quindi è veramente una scatola per me importante molto preziosa molto delicata e che utilizzo raramente o solo per fare delle illustrazioni più professionali di sicuro non la utilizzo per colorare così anche mandala più estesi una delle grandi qualità è che sono esattamente estremamente pigmentate e anche utilizzando con l'acquarello basta pochissimo per fare proprio un bel un bel colore quindi diciamo che la loro qualità ripaga magari della loro preziosità una scatola così viene comunque 75 euro per 40 matite acquarellabile le ultime matite professionali che vi presento sono le prismacolor premier questo sono matite colorate professionali sono estremamente tenere da utilizzare io le utilizzo raramente perché personalmente non mi piacciono sono troppo morbide la punta si rompe facilmente infatti io le vediamo che io le ho utilizzato pochissime e li posso utilizzare proprio per piccoli disegni rifiniture magari se non ho un colore sulle altre anche delle carandash o delle castel proprio utilizzo questi ma diciamo che per niente è una matita che mi piace ma potrebbe piacere ovviamente a voi perché siamo tutti diversi sia nel tratto che nel colorare io ve le presento comunque perché è un must nella professione una matita professionale veramente di grande qualità una scatola così di 72 matite acquarellabile viene di 139 euro è veramente un grande investimento se avete la possibilità di provarle prima di comprarle per vedere se vi piace o meno fatelo perché magari veramente qualcosa di personale come le matite magari di carandash acquarellabile professionale che comunque hanno un costo questo posso veramente andare sul sicuro perché è una qualità che è una via di mezzo tra il morbido e il secco un pigmento bellissimo invece questo sono veramente veramente molto morbide tra l'altro facendo delle punte che vedremo dopo così affillate che è quello che utilizziamo per colorare spesso valentieri si spezzano quindi è un po' un problema rispetto all'investimento iniziale ovviamente possiamo vedere adesso a confronto le diverse qualità di mattite prima di salutarci e passare l'esercizio del mandala volevo mostrarvi anche una cosa importante per quanto riguarda l'utilizzo delle matite colorate ovviamente per quanto riguarda il colorare vorrei fare un altro video spiegativo però questo solo una cosa è importante secondo me inizialmente per colorare e per utilizzare queste matite qualsiasi esso siano è importante soprattutto fare le punte è un consiglio che vi do perché è importante avere una punta il più affilato possibile questo vi aiuterà tantissimo a colorare una punta veramente tanto tanto affilata anche così rispetto a una punta normale questa è una punta normale che tutti abbiamo questo è stato famosissimo magari negli anni 70 questa tampera mattita manuale però la caratteristica di questo è che possiamo mettendo la mattita ovviamente scegliere a quelle dimensione se vogliamo molto affilato poco affilato la mattita quindi se io la metto qua che tanto uno spazio tanto grande e inizio proprio a fare l'appunto fino alla fine sentiamo vediamo che la fila perfettamente vediamo sul nero che magari si vede più è veramente perfetto il tempera mattita normale non riesce a fare delle punte così affilate ovviamente si può ancora fare più più affilate sempre più affilate e questo farà una grande grande differenza quindi non utilizzate mai una mattita che non è affilata questo è importante uno perché anche il colore si mescolano tra di loro molto più facilmente e due perché va a riempire tutti i buchi bianchi della carta questo per esempio questo tempera mattita della Lebez la potete trovare anche lì sicuramente in cartoleria o in un negozio specializzato per le belle arti o su amazon ovviamente e ha un prezzo più o meno di 18 euro ma veramente anche questo è un investimento molto molto importante per il disegno ecco spero che il video vi sia piaciuto se avete domande ulteriori specifiche non esitare a scrivere sul gruppo o a scriverci in privato rispondiamo ovviamente molto volentieri buon disegno buon mandala da Astrid